Cosa possiamo aspettarci da quest'ultima settimana di calcio mercato? Intanto partiamo con una grandissima notizia anche se non riguarda direttamente la nostra Serie A perché Christian Eriksen può tornare a giocare. Dove? In Premier League, dove gli è permesso partecipare anche con il defibrillatore sottocutaneo. Si attende dunque la firma con il Brentford. In Italia invece Torino e Genoa puntellano i loro reparti offensivi. Il Grifone tenta i colpi piccoli dell'Atalanta. I Granata invece Pellegri dal Monaco via Milan. E il Milan così potrebbe fiondarsi sul classe 2004 la Azetic dalla Stella Rossa Belgrado. L'Inter invece dovrà sistemare la carta Sensi, sempre più vicino alla Sampdoria dove potrà terminare la stagione con qualche occasione in più di mettere minuti nelle gambe. Mentre Inzaghi dopo l'infortunio di Correa vorrebbe qualcuno per l'attacco. Caicedo e Salsedo, i nomi forti in questo momento. Genoa sempre presente anche in ottica Juve perché Rovella potrebbe tornare anticipatamente dal prestito. Ram si libererà allora lo spazio andando all'Aston Villa. Tagliafico poi accostato a Napoli e vicino al Barcellona. Mentre il Tottenham, secondo la nostra redazione, potrebbe considerare Amrabat dalla viola in caso di cessione di Dombele al PSG.